Cari telespettatori di Media24, buonasera e bentrovati al nostro consueto appuntamento con l'informazione. Avrete letto in questi giorni una notizia che ha fatto il giro del mondo. Il gruppo francese Declatron non venderà più le canoe nei punti vendita di Calais e di Grand Sint nel nord della Francia per impedire ai migranti di utilizzarle per attraversare la manica. È una notizia che ha dato l'Ansa nei giorni scorsi e che ci racconta ancora una volta di come il dramma dei migranti assuma ogni giorno di più i connotati di una tragedia epocale e di come questo dramma sia cinicamente cavalcato da chi usa i disperati che premono ai nostri confini come carne da macello per interessi di tutt'altra natura. Pensavamo che la tratta degli schiavi appartenesse a un tempo ormai archiviato negli annali di una storia ormai morta e sepolta. Invece oggi, nel tempo della modernità, anche se in forme diverse, ma non per questo meno drammatiche, un mondo di disperazione e di povertà bussa alle nostre porte interpellandoci nel profondo delle nostre coscienze. Al netto di tutto il sudiciume che si muove attorno alla tratta dei migranti, agli interessi sporchi mossi da organizzazioni che lucrano sulla pelle di milioni di disperati, cosa possiamo fare noi per impedire che tutto ciò accada? È accettabile che ai confini tra la Polonia e la Bielorussia, assiepati come bestiame sotto il filo spinato e inzuppati dagli idranti nel gelo dell'inverno ormai alle porte, migliaia di esseri umani siano lasciati lì a marcire come bestie, stretti come una morsa tra chi li spinge e chi li respinge? È proprio di fronte a un problema così grande che è destinato a crescere giorno dopo giorno, che ci vorrebbe un'Europa più forte e più unita, capace di governare un fenomeno così complesso con forza politica ma anche con capacità di accoglienza e di aiuto. E invece è proprio qui che intravidiamo tutta la debolezza europea, tutti in ordine sparso, chi alzando muri ereticolati come nei paesi dell'Europa orientale e chi come noi ad accogliere tutti senza avere il sostegno e la solidarietà degli altri paesi a noi vicini. Non esistono soluzioni semplici a problemi complessi e la complessità si affronta insieme, unendo le forze, mettendo in campo azioni condivise. Il clima, la pandemia, l'emigrazione sono le emergenze del nostro tempo ed è un dovere parlarle ed è un obbligo risolverle. Il Presidente del Consiglio Comunale di Pordenone, Pietro Tropeano, ha convocato la prima e seconda commissione consigliare per la nomina dei presidenti e dei vicepresidenti. Nella seduta odierna, peraltro, la prima commissione ha esaminato le variazioni di bilancio da sottoporre al Consiglio e l'aggiornamento del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi per il biennio 2021-2022. Domani, invece, la seconda commissione è chiamata ad approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica e l'adazione della variante al piano regolatore relativa agli interventi di riqualificazione della viabilità circostante l'ospedale di Santa Maria degli Angeli. Spostiamoci a Gorizia. La Giunta Comunale ha approvato la deliberazione per l'intitolazione dello stadio di via Baiamonti al Cavalier Rosario Vizzari, figura simbolo dello sport isontino, diventando un vero e proprio maestro di vita per le giovani generazioni. L'impianto sportivo, recentemente ristrutturato, in cui sono cresciuti migliaia di giovani goriziani, porterà quindi il nome di uno dei personaggi più rappresentativi dei valori che hanno caratterizzato le tante attività portate avanti da associazioni e volontari che hanno saputo coniugare l'aspetto sportivo con quello sociale. E a Pramaggiore è seduta straordinaria in videoconferenza del Consiglio Comunale per lunedì 22 novembre prossimo per discutere un ordine del giorno prevalentemente incentrato sulle variazioni di bilancio, oltre che per la revisione del programma di forniture di beni e servizi per il bienio 21-22 e la riqualificazione energetica degli edifici di proprietà comunali. Nella seduta di questa settimana la giunta del Comune di Udine invece ha approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di 65 nuovi impianti di illuminazione pubblica in alcune zone periferiche della città come via Biella, la rotonda di via Molinnovo, via Baldesseria e altre. Nello specifico, ha precisato il vice sindaco Michelini, i lavori riguardano la realizzazione degli scavi, la posa e il successivo interramento dei cavidotti, la posa dell'impianto di terra, la realizzazione dei plinti di sostegno dei pali e il ripristino del manto stradale. Tutte le aree sono di proprietà del Comune e libere da vincoli di natura ambientale, paesaggistica o storica e normativa. Il costo complessivo dell'opera è di 260 mila Euro. E domani nella sala consigliare del Comune di Pordenone saranno illustrati i contenuti e le future iniziative in merito al piano di azione comune che si occupa della qualità dell'aria. Interverranno l'assessore all'ambiente del Comune di Pordenone Monica Cairoli e i vertici istituzionali dei 14 comuni della provincia che hanno sottoscritto il piano impegnandosi a ridurre le emissioni da riscaldamento e dai fuochi all'aperto. Il Comune di Gorizia mantiene alta l'attenzione dopo l'incendio che ha interessato l'ex Bertolini di Mossa. Il sindaco Ziberna e l'assessore De Sordi sono in collegamento continuo con l'ARPA regionale per avere informazioni sulla qualità dell'aria in città. Dopo la nube nera che si è sprigionata dall'incendio. Il monitoraggio è continua, spiega l'assessore De Sordi e ci è stato garantito che i valori rilevati non sono preoccupanti e che non c'è necessità di alcuna ordinanza restrittiva né di altri interventi da parte del sindaco. A tal riguardo il Comune ha inviato una richiesta formale per sapere se fosse necessario un intervento del Comune, ma ARPA ha confermato che i controlli effettuati non evidenziano criticità per ciò che riguarda la città di Gorizia. E l'amministrazione comunale di Cividale del Friuli, al fine di contrastare gli effetti economici causati dall'emergenza sanitaria, ha adottato importanti misure a sostegno delle attività economiche attive sul proprio territorio e maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia. L'obiettivo, dichiara l'assessore comunale alle finanze e bilancio, Katia Brinis, è tutelare la permanenza del tessuto produttivo e commerciale nel territorio di Cividale. La Giunta ha disposto di riconoscere un contributo a fondo perduto una tantum per un singolo importo di Euro 1500 da erogare alle prime 40 imprese in possesso dei requisiti richiesti in relazione alla tipologia e alla sede dell'attività, alle dimensioni e alla perdita di fatturato o di reddito. A Palmanova, manifestazione regionale delle organizzazioni confederali su pensioni, fisco e lavoro. Sabato 27 novembre in Piazza Grande della Città Stellata, CGL, CISL e UIL mobiliteranno i cittadini per sensibilizzare l'opinione pubblica sui provvedimenti del Governo. Ascoltiamo a tal riguardo il referente Fim Cisli di Pordenone, Denis Dallalibera. Il 28 ottobre il Governo ha elaborato una bozza sulla legge di bilancio 2022. Purtroppo da questo documento si evince che l'impegno su temi come lavoro, pensioni, fisco, sviluppo e sociale è stato molto limitato. Sul lavoro crediamo sia indispensabile l'attuale degli investimenti che mirino a creare nuova buona occupazione, formando lavoratori e riducendo la precarietà che ancora oggi esiste in maniera importante nel nostro Paese. Serve lavorare per stabilizzare il lavoro e rilanciare l'assunzione anche nei settori pubblici, in particolare nella sanità e nella scuola. Sulle pensioni ricordo che nella nuova legge di bilancio è previsto che il ritorno graduale alla riforma Fornero, con il cerimento di una quota 102 provvisoria che prevede solo per il 2022 l'uscita con 64 anni di età e 38 di contributi. Riguarderà potenzialmente solo 16.000 lavoratori. La nostra proposta è di dare una gradualità alle uscite, permettendo al lavoratore di decidere se uscire con 41 anni di contributi o 62 anni di età. Oltre a questo si devono anche fare dei ragionamenti sull'uscita anticipata delle donne e, importante, sulla sostenibilità delle pensioni di domani e deve affrontare oggi il problema per i giovani costruendo dei fondi appositi. È fondamentale inoltre allargare il perimetro dei lavori gravosi e usuranti e deve essere nuovamente allargato oltre all'app social anche i lavoratori precoci, dimenticati da questa manovra. Crediamo che in questo periodo ci sia una riduzione importante del potere di acquisto dei salari e delle pensioni. Vediamo gli aumenti che abbiamo ogni giorno. E sia fondamentale, quindi per aumentare il potere di acquisto, abbassare la pressione fiscale e recuperare queste quote attraverso la lotta all'evasione, che tema ancora troppo poco affrontato nel nostro Paese. Poi pensiamo che il sindacato deve essere parte in causa sui temi specifici che riguardano in particolare il lavoro e la vita sociale, sugli investimenti, sul piano nazionale di ripresa e resilienza, PNR, sanità, norme anti-delocalizzazione, sostegno del mercato del lavoro e ammortizzatori sociali. Sono tutti temi che devono essere affrontati con le parti sociali. Il 16 ottobre abbiamo avuto un primo incontro con il Governo, che ha dato un'apertura, però alla fine non abbiamo ancora nulla di concreto. Per questo crediamo che sia fondamentale rafforzare la nostra posizione su questa partita e quindi avvieremo una serie di iniziative nei vari territori nazionali, proprio per affrontare quei temi appena esposti. In Friuli ci troveremo il 27 novembre in Piazza Grande, a Palmanova. Un importante provvedimento della Giunta regionale viene incontro ai cittadini penalizzati dal fallimento delle cooperative operaie regionali, con l'apertura di uno sportello ristori che consentirà di aiutare quanti hanno perso i loro risparmi. Sentiamo al riguardo le dichiarazioni dell'assessore regionale Barbara Zilli. Assessore Zilli, il crack delle cooperative trova una risposta di sportello adesso. Sì, grazie all'impegno che Regione Friuli Venezia Giulia ha messo a terra assieme al braccio operativo irrinunciabile delle Camere di Commercio abbiamo avviato l'iter per le domande. Si tratta di una dotazione finanziaria importante, abbiamo destinato 17 milioni di euro per questa misura di aiuto sociale. Garantiamo quindi a una platea di 15 mila persone i ristori che possono raggiungere l'88% delle somme che sono state nel tempo oggetto di ammanco. Questa è un'operazione che ci vede primi in Italia come Regione per creare una misura di sostegno. Siamo vicini a queste famiglie, lo volevamo fare fin dal primo minuto, oggi finalmente è messa in opera questa iniziativa. Le domande possono essere fatte fino al mese di febbraio e gli accrediti saranno possibili dal mese di maggio. La macchina delle Camere di Commercio sul territorio ha garantito l'apertura di sportelli. Sappiamo già che le domande sono numerose, quindi l'invito è continuare a presentarsi, chiarire eventuali dubbi, ma il modello di presentazione della domanda è molto semplificato e quindi confidiamo che ci sia una grande partecipazione senza intoppi. Il Friuli Venezia Giulia ha iniziato il percorso di certificazione per l'accreditamento delle strutture trasfusionali a partire proprio dalla città di Pordenone. Nel mese di ottobre il Dipartimento di Medicina Trasfusionale dell'Azienda Sanitaria Pordenonese è stato visitato dai certificatori di uno dei principali poli di lavorazione europei per la produzione di farmaci derivati dal plasma e dall'ente esterno Bureau Veritas, i quali hanno attestato che tutte le attività soddisfano le normative nazionali ed europee. Grazie alle associazioni del sangue e alla generosità dei donatori, Pordenone partecipa con ben 20.000 donazioni all'autosufficienza regionale e permette al Friuli Venezia Giulia di supportare con più di 8.000 unità altre regioni con carenza di sangue. Siamo fortemente motivati al consolidamento del sistema di gestione della qualità e tali certificazioni, dichiare il dottor Andrea Bontadini, direttore del Dipartimento di Medicina Trasfusionale, sono necessarie per garantire che il plasma dei nostri donatori venga impiegato per la produzione dei farmaci salvavita come l'albumina e le immunoglobuline. Il Friuli Venezia Giulia invia annualmente 28.000 kg di plasma per la produzione di farmaci e nello scenario italiano rappresenta la regione più virtuosa per il numero di kg inviati ai poli di lavorazione europea ogni 1.000 abitanti. Sabato prossimo con inizio alle ore 17 presso il Teatro Russolo di Portogruaro si terrà la cerimonia di consegna del premio Gervino. L'amministrazione comunale di Portogruaro, di concerto con numerose associazioni del territorio, ha stabilito in via straordinaria di assegnare tale riconoscimento a tutto il personale sanitario che con professionalità e dedizione, a distanza di oltre un anno dallo scoppio della pandemia da Covid-19, è tuttora impegnato in prima linea. L'emergenza sanitaria da Covid-19, pur mettendoci in grave difficoltà, ha fatto emergere le migliori qualità ed energie, rendendo orgogliosa tutta la comunità portogruarese. Questa è stata la dichiarazione del sindaco Florio Favero. E con questa ultima notizia noi chiudiamo il telegiornale di questa sera. Grazie a tutti voi amici di Medi24 per la vostra attenzione, continuate a seguirci con i nostri programmi e come sempre con grande affetto in alto i cuori a tutti voi. Grazie a tutti.